buonasera il mondo night questa volta ci porta in un viaggio transoceanico superiamo l'oceano atlantico e arriviamo sul lago ontario siamo in canada a toronto una delle città più multietniche più cosmopolite più vibranti del pianeta terra una city tra l'altro straordinaria lo vediamo nel momento in cui noi atterriamo soprattutto se noi atterriamo al pierson airport di sera troviamo un effetto lunare sembriamo quasi arrivare in una città di un'altra dimensione sul lago ontario con un'atmosfera particolare i riflessi e quel skyline davvero rifinito che come vedete è dominato dalla sien tower la sien tower è una delle strutture portanti più alte del mondo 553 metri pensate che domina quindi la diciamo la selva dei grattacieli quindi sempre ben ordinata sempre armonica di toronto quindi la torre delle telecomunicazioni la siente è sicuramente il simbolo un po della città canadese una metropoli tra l'altro che arriva sui 3 milioni di abitanti anche se poi l'area urbana arriva quasi ad oltre 5 milioni di abitanti quindi sicuramente la città più popolosa più importante anche a livello economico commerciale del canada capitale dell'ontario ed è sicuramente una delle maggiori metropoli anche a livello attrattivo a livello turistico sicuramente del nord america ci accoglie subito la parte possiamo dire storica da raccontare che legata quindi anche alle tribù indiane del territorio iuroni visto che qui siamo nei pressi del lago iuron anche ma anche gli rochesi nello stesso tempo poi la dominazione britannica quindi ha fatto sì che toronto alla fine del settecento quindi avesse una prevalenza più che altro british mentre la parola toronto stessa è sicuramente di derivazione indiana quindi delle pelle rossa la caratteristica quindi a vedere quindi questo centro dominato quindi da uno skyline ben ordinato quindi armonico ma presenta degli spunti come per esempio il flat iron che riprende un po sembra somigliare questa forma a ferro destino di questo palazzo molto particolare il flat iron di new york l'heaton center questo enorme centro commerciale quindi questo grande contenitore beniristico quindi che si trova a downtown come anche è interessante anche vedere i 30 chilometri underground the path il sentiero quindi il percorso sono 30 chilometri di negozi di shop di shopping di di attrattive appunto che abbiamo addirittura sottoterra visto che le temperature d'inverno sono talmente basse quindi arrivano delle clamorose blizzard quindi tempeste anche di neve di gelo fanno sì che quindi la vita si svolga anche soprattutto a sottoterra e ci sono ben 30 chilometri quindi come vi dicevo di store toronto poi presenta anche una certa o fascino soprattutto multiettico multiculturale quindi legata alla prevalenza quindi di china town danda street spadaina quartiere messicano little hathens quartiere greco poi c'è quello anche portoghese ma come ben sappiamo toronto rappresenta anche una delle maggiori comunità italiane del pianeta ci sono oltre mezzo milioni di italiani o soprattutto di originari quindi immigrati di famiglie quindi originarie quindi da parte degli italiani che caratterizzano poi soprattutto quel quartiere segnato da college street il college di toronto l'università di toronto è un'università tra le più antiche del nord america qui parliamo sempre dell'ottocento e in questi palazzi quindi stile neogotico che caratterizzano un po anche la parte quella possiamo dire più antica della city lo sport è un altro elemento portante di questa città che ripeto è un grosso centro commerciale un grosso centro finanziario economico e poi diventato anche turistico ricordiamo anche museale visto l'importanza del royal ontario museum una grande collezione quindi museale che riporta anche tantissimi elementi quindi dell'america precolombiana e nello stesso tempo anche abbiamo anche un'importante art gallery contemporanea ma vi dicevo lo sport importante attraverso anche avveniristiche strutture sportive lo skydome center che presenta questa enorme impianto che va sui 60 mila posti e spettatori e quindi con questa possibilità quindi di apertura e copertura attraverso un tetto retrattile roof retrattile che permette quindi di conseguenza anche di poter chiudere l'impianto anche qualora vi siano anche delle condizioni atmosferiche piuttosto impegnative i rogers quindi stadium ripeto lo skydome questa importante struttura ospita i blue jays del baseball che sono stati campioni d'america nel 92 e 93 e ricordiamo però che la vera e propria diciamo sport nazionale una vera e propria religione anche per toronto sono i gloriosi maple leaves quindi lo che rimane sempre lo sport nazionale per eccellenza nonostante poi toronto sia stata protagonista anche nel basket quindi una metropoli che possiamo dire non solo importante in tantissimi aspetti quindi come abbiamo visto quindi economici turistici culturali universitari anche finanziari ma anche sportivi una city assolutamente da vivere che tra l'altro poi presenta questa meraviglia come vi avevo anticipato che sono le cascate del mia gara un qualcosa di meraviglioso siamo non lontani da toronto non ci mettiamo tanto ad arrivarci si colloca quindi tra questi due importanti laghi quindi lago ontario e lago irie in questo alveo c'è questa incredibile meraviglia che presenta una portata d'acqua straordinaria l'emozione quando con il maestro mid noi entriamo quindi all'interno quindi della portata d'acqua rimaniamo assolutamente sommersi da questa incredibile meraviglia la caratteristica quindi tra l'altro del tutto che sicuramente la parte più impressionante più anche possiamo dire a livello anche di attrattiva è sicuramente quella canadese quindi con la forma delle horse show falls cioè le cascate a forma di ferro da cavallo che praticamente un po caratterizza la parte canadese mentre la parte americana diciamo verso l'altra importantissima city che si trova dall'altra parte quindi del della zona di toronto quindi buffalo quindi siamo già negli stati uniti presente invece un'attrattiva non così emozionale come quella canadese quindi toronto cascata del negare un viaggio assolutamente da fare una metropoli mondiale tra l'altro anche city of design per quanto riguarda l'unesco riconosciuta come città creativa del design e un saluto a tutti anche da toronto e ci ritorniamo la prossima settimana in italia e ritorniamo con ad analizzare quindi un'altra storia da raccontare buonasera a tutti e quindi un'altra storia da raccontare buonasera a tutti